Manuela parte lunedì 6 aprile, il programma Io resto in forma dedicato al benessere del nostro corpo. Sì, esatto. Da lunedì saremo in onda, io e la mia collega, io sono Manuela Galgani, ci sarà insieme a me la mia collega che è Giada Broccoletti e siamo le insegnanti della Scuola Magia Danza in provincia di Pesaro Uvino. Quali esercizi preparerete per i nostri telespettatori? Allora, diciamo che abbiamo fatto un po' un mix di cose che siano fattibili un po' per tutte le età, diciamo. Abbiamo estrapolato degli esercizi che vengono comunque dalla danza e con semplicità li abbiamo elaborati per poterli far fare a tutti quanti, senza andare troppo veloci, ma anzi con delle spiegazioni molto lente e accessibili a tutti. E poi c'è una piccola parte sul finale dove faremo delle mini e semplici coreografie, ma proprio semplici semplici per tutti. Quindi ci terrete compagnia per tutti i giorni della settimana? Sì, visto il momento per adesso ci faceva piacere avere la possibilità di entrare nelle case facendo un po' di compagnia, muovendoci un po' in maniera semplice per stare insieme, distanti ma un enti. Grazie Emanuela, dunque da lunedì io resto in forma tutti i giorni sul canale 17 di Fano TV. A presto. Grazie. 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 Grazie.